tantissimo. Io questa domanda la devo fare dal punto di vista giornalistico. L'uomo copertina purtroppo per lui è stato Antonio Conte, ma in queste famose riunioni tecniche che cosa ha detto? Cosa ha detto? Il mister ha fatto il suo lavoro, come tutte le domeniche il mister ha preparato le partite al massimo. Chi non conosce Antonio Conte non può saperlo, ma vi posso assicurare che sul lavoro lui si trasforma, lui vuole vincere sempre, anche in allenamento e partitelle, lui è una persona che comunque prepara tutto nel minimo dettaglio, quindi non ha proprio senso tutto quello che è stato detto su di lui. E quindi Carobbio ce l'aveva con lui? Questo non sta a me a dirlo, ci saranno dei tribunali a stabilirlo, però posso dire che il mister il suo lavoro lo fa con la massima professionalità e comunque lui ha sempre preparato tutto per vincere.